Ok, siamo qui alle cascate della Frota e penso sia molto tardi arrivare fino a qui. Vedete lì c'è una piccola cascatella che segue subito con un'altra cascata che vedete arriva fino lì in alto. Guardate da dove scende e fino a lì. Adesso proseguo e intanto vediamo il cisco che sta cercando di salire sopra la scalettina. Niente, adesso andiamo verso l'altra cascata. Molto bello qui. Penso che tra poco mi bagnerà tutto. Niente, qui il posto è fantastico. Ecco qua. Guardate che bello ragazzi. Vai cisco. Questo è giro. Vai giro. Ecco cisco. La cascata. Questa è una piccola correntina, cascatina e niente. Sono espanso. Io faccio vicino. Vicino la cascatina. Ecco qui la scalettina. E qua si posiede. Un po' complicato tenere l'acqua mentre ci stanno facendo le cose. E niente. Non sono ancora arrivato. È bellissimo ragazzi. Ecco qua. La mitica proda. Cascata della proda. E ragazzi è immensa. Ragazzi è stupenda, guardate. Mamma mia. Adesso. Questo è il piccolo pezzo che scende. Adesso spaghiamo. Ancora. Ragazzi guardate com'è messo. È altissima. Molto bella. Una delle più belle penso. Ragazzi. Qua fa un pezzo terribile. Un po' difficile. A fallire. Con l'altra ripeto. Ecco qua qua. La proda. Ecco qua la proda. Madonna mia cosa è alta. Yuhuu. Sono estanco. Dietro le c'è il mincino. Fa molto freddo. La 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 la. Yuhuu. Mi sclode un po' cazzo. Qua sarà già bello ragazzi. Venire con la tipa. E. Apprezzare questo pezzo di natura. Guardate ragazzi. Come scende quell'acqua. Peccato che buio ma. Vi dico che è fantastico. Davvero. Bellissimo. Guardate. Scende che è una meraviglia. Siamo arrivati qui. Adesso stappiamo. E lì c'è vedi. L'altro pezzo. Ragazzi. Alla prossima. Di. Alle cascate. Yuhuu. E basta la pena dai.